Fedez è in vacanza a Saint-Tropez con la nuova fiamma Garance Otie Nelle ultime ore è tornato a seguire l'ex moglie Chiara Ferragni su Instagram Il rapper di Rozzano Fedez è nuovamente in vacanza, questa volta è volato a Saint-Tropez con la nuova fiamma Garance Otie Come sua abitudine ha documentato le sue giornate attraverso diverse foto condivise nelle sue Instagram Stories Nella notte, però, è tornato a seguire l'ex moglie Chiara Ferragni proprio sul social Fedez ha iniziato le sue vacanze estive, volando prima in Sardegna e poi a Saint-Tropez dove, insieme ad alcuni amici e diverse modelle, si sta godendo un po' di meritato relax Dopo il suo ricovero in ospedale per un'emorragia interna, si sta rilassando in compagnia della nuova fiamma Garance Otie A giudicare dalle Instagram Stories del rapper sembrava che la relazione con la modella fosse giunta al termine, invece non è così Fedez, non è finita Torna a seguire Chiara Ferragni su Instagram A Saint-Tropez il rapper e la modella hanno condiviso gli stessi tramonti e le stesse scale del mega yacht sul quale stanno dormendo Nonostante dal momento in cui si è separato con la madre dei suoi figli Chiara Ferragni, non ci siano conferme sulla situazione sentimentale del cantante, della sua vicinanza con Garance Otie, non ci sono dubbi Secondo molti, però, Federico non avrebbe ancora dimenticato la moglie Come ha fatto notare l'esperta di gossip Dejanira Marzano, quando l'artista era a Villa Matilda con i figli Leone e Vittoria sul comodino, è apparsa una foto di coppia con l'imprenditrice digitale Inoltre la scorsa notte il rapper avrebbe fatto un gesto social che non è sfuggito ai fan I più attenti hanno notato come, dopo aver passato la serata a bordo di uno yacht, il cantante ha ricominciato a seguire l'ex moglie Chiara Ferragni su Instagram Il gesto è stato considerato molto inaspettato, visto che i due avevano smesso di seguirsi lo scorso aprile, e da allora i loro rapporti sono peggiorati sempre di più Al momento, però, non sembrerebbe che l'imprenditrice digitale abbia ricambiato il suo follo, né si è a conoscenza della reazione della sua nuova fiamma Garance Otie La modella poco più che ventenne non sembra curarsi particolarmente del giudizio delle persone sul suo conto, e molto spesso pubblica video su Instagram o TikTok, che mostrano gli stessi luoghi condivisi dal cantante o il suo cane Silvio